Al via la raccolta fondi una diagnosi per Francesco Sant'Anastasio, affetto da una malattia di cui i medici non conoscono origine, cause e cure, Francesco Sant'Anastasio, 30 anni, originario di Napoli, ex calciatore, da ben due anni è costretto a stare permanentemente a letto oppure seduto. Ha subito diversi interventi, il giovane al ginocchio e dopo il terzo ha iniziato ad avvertire una strana sintomatologia, totale carenza di ossigeno a livello cellulare, problemi di pressione, tachicardia, milza ingrossata e numerosi problemi cardiaci. Ad oggi Francesco non riesce più a stare in piedi per più di due o tre minuti a causa dell'aumento vertiginoso della sua pressione arteriosa. Si è fatto visitare in diversi ospedali italiani, diversi centri specializzati in malattie rare della penisola e nessun medico è riuscito a diagnosticare la sua malattia. È in un limbo da oltre due anni, ancora nella fase di capire cosa andrà a curare. Nonostante vari appelli in tv, tra cui un intervento alla vita in diretta pochi giorni fa, la situazione è immutata e stagnante. Nei prossimi giorni verrà avviata una campagna di raccolta fondi su Epla, un noto sito per il crowdfunding, il cui obiettivo è stato fissato a 10.000 euro, che si puntano a trasferire a Ciccio, Francesco, questo è il suo soprannome, presso il centro estero di Marburgo, in Germania, dove opera il dottor Schaffer, tra i più rinomati al mondo per la risoluzione di casi particolari e malattie rare. Francesco è un giovane, ha una famiglia, degli amici e una fidanzata che lo amano, tanta voglia di vivere e di tornare ad essere quello che era prima che la malattia gli rendesse l'esistenza quotidiana un inferno. Sostenerlo anche con un contributo minimo significa donare un sorriso a chi lotta per una vita normale e non si arrende.